Il Bello e il Cattivo Tempo, siamo al Teatro Ghione con un'amica mia del Bello e il Cattivo Tempo, una brava regista, autrice, attrice, ce l'hai tutte? Tutto, faccio tutto, non mi annoio mai io. Meno male, meno male. E tutto da sola? No, non è vero, non è vero, no, tutto da sola? Non lo dico, non lo dico, non lo dico. Vabbè dai lo dico, ci sono altri due che hanno scritto e diretto con me questo spettacolo, però sono un po' bruttini, l'immagine non funziona. Quindi faccio tutto io, virusca rossi. No, Riccardo Scarafoni e Guido Governale, per carità, sono i miei colleghi. Wargame. Wargame, la prima guerra virtuale. Tu sai da tantissimo tempo che ce l'avevo questo sogno nel cassetto di scrivere uno spettacolo che avesse come argomento la guerra, perché secondo me il teatro è uno strumento che può affrontare argomenti sociali, tu lo sai che io amo gli argomenti sociali a vasta gamma. E finalmente è arrivato, è arrivato, abbiamo unito la prima guerra mondiale, perché nel 1918 sono 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, con uno strumento invece del presente che è la realtà virtuale. e quindi ci sono questi bambini, bambini e ragazzini ormai più alti di me, che sono nella loro cameretta, giocano a un gioco proibito perché è iper reale, è vietatissimo per la loro età, creano i loro avatar che sono in realtà loro, che sono abbastanza più grandi, sì, va bene, un pochetto, sì, sì, che sono i loro avatar e dalla loro cameretta sotto nel palco sottostante si trasforma tutto e entriamo nella realtà virtuale di Wargame. E non diciamo altro, perché poi chi vuole sapere come va a finire deve venire a vedere. Deve venire qui dal 5 al 22 aprile al Teatro Chivone, che è un teatro meraviglioso e Wargame, la prima guerra virtuale. Allora, conosciamo al volo i ragazzi, così ripartiamo da lui. Alessio Di Domenico Antonio. C'è un nome lunghissimo. Allora, la firma dello spettacolo è una garanzia, ci metto la faccia io e il bello è il cattivo tempo. Vi aspettiamo al Teatro Chivone fino al 22 di aprile. perché chi non viene, va beh, non vale. Chi non viene, non vale. I bello è il cattivo tempo, ciao, grazie, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.